Ciao a tutti, oggi parliamo di ritenzione associata anche a cattiva circolazione, dunque capillari e vene fragili. Ritenzione, molto spesso possiamo soffrire di ritenzione magari quando accumuliamo più peso, quando ci svediamo la mattina che abbiamo male agli arti inferiori, soprattutto alle mani, non si levano magari degli anelli che abbiamo, le caviglie sono gonfie, anche alla sera piedi gonfi, borse sotto gli occhi, sono tutti sintomi di ristagno di liquidi, soprattutto negli arti inferiori, perché ristagnano molto di più i liquidi per forza di gravità, per cui si possono associare a due prodotti, perché il ristagno molto spesso è causato anche da una cattiva circolazione, per cui bromelina più della linea 100 fiori, una capsula due volte al giorno, ma si può anche aumentare il dosaggio, in base sempre allo storico di una persona, dunque andiamo a fare un'anamnesi, vi ricordo non fate mai il fai da te, ma filatevi sempre a delle persone esperte, che vi possono consigliare al meglio, per cui una capsula due volte al giorno come minimo, lontano dai pasti, perché la bromelina ha anche un'azione digestiva se presa dopo il pasto, va a scendere le proteine, per cui riesce a digerire meglio le proteine, facilita la digestione, ma non interessa come ritenzione di liquidi lontano dai pasti. Da associare ad un prodotto che è in liquido, per chi preferisce il liquido e non le compresse, l'emoven della linea, sempre 100 fiori, liquido, fior di gemma, dunque contiene il gemmo derivato di principi attivi, tra cui ha il sorbo, il castagno e l'ipocastano, che vanno a migliorare circolazione, in caso di proprio bene varicose, dunque cattiva proprio circolazione, sia in caso di ristagno liquidi causato anche da ritenzione, da cattiva circolazione, ma anche va a proteggere la tonaca dei vasi, per cui la mucosa rivestimento dei vasi, viene capillari fragili, anche i capillari che si spezzano facilmente. Come dosaggio sono 50 gocce due o tre volte al giorno, anche qui dipende sempre dalla costituzione, dallo storico di una persona e anche se vengono associati o meno questi due prodotti. Comunque ritenzione, ristagno di liquidi e cattiva circolazione, questi due prodotti vanno benissimo insieme perché vanno proprio a sgonfiare, a fare un sgonfiaggio delle gambe. Si può già cominciare adesso, senza aspettare magari l'arrivo con del caldo, perché comunque un cambio di temperatura può portare a pesantezza ancora di più alle gambe, ma tutto il resto del corpo, per cui occorre sempre fare una prevenzione. Altri consigli che vi posso dare, l'alimentazione è andata da regolare, più frutta e verdura di stagione, che ottiene più fibre, dunque vado ad alleggerire anche a livello intestinale, col getto dell'acqua calda fredda per migliorare la circolazione a livello degli arti inferiori, alternandola e anche idrattarsi molto, soprattutto lontano dai pasti, bere un litro e mezzo, due litri d'acqua al giorno, aiutandosi anche con le tisane, lontano dai pasti meglio, perché durante il pasto andrebbe bevuto massimo un bicchiere d'acqua, perché altrimenti si sciolgono i succhi gastrici, dunque si rallenta anche la digestione. Dunque idrattarsi molto lontano dai pasti.